Elena, finita 3-1, è finita il campionato. A me non sembra guarda, non ci sto ancora credendo che è già finito tutto, non ero pronta. Cosa è successo questa sera? Si poteva fare? Si poteva fare, a me dispiace molto per il primo set perché ce l'avevamo nella mano a chiudere il primo, purtroppo non ci siamo riuscite e loro si sono molto gasate, abbiamo fatto fatica a riprenderle, infatti abbiamo messo un set, un altro che abbiamo perso e poi è stato un gran set terzo, siamo state brave. E poi anche nell'ultimo set, più di una volta, avete quasi raggiunto Piacenza, la partita sembrava riaperta e invece per loro sono sempre ripartite. Sì, loro hanno giocato una grandissima partita, uguale come domenica e non ci hanno dato nessun spazio, magari sembrava che abbiamo sempre rincorso a loro, invece loro hanno giocato molto bene, hanno difeso un sacco di paloni che poi hanno messo per terra, quindi erano molto cariche e erano meglio. A un certo punto, se non sbaglio, hai avuto crampi? Se non ti sbagli hai ragione. Sì, nel... Forse l'ultimo set, no, il terzo, terzo. Sì, nel terzo. Poi sei rientrata nel quarto. Sì, poi sei rientrata nel quarto e mi spiace un sacco che non ho potuto fare quello che... cioè, fare tutta la partita, diciamo. Un pensiero a questo tuo rientro a busto? È stata una bellissima stagione, se la prendiamo nel positivo, in Champions League abbiamo giocato benissimo, peccato che non abbiamo fatto le stesse cose poi nel campionato. quindi per me è stata una bellissima stagione, io ringrazio a tutti che mi hanno aiutato questa stagione a riprendermi dall'infortunio che avevo l'anno scorso e... è stata bella stagione e non ci credo ancora che... Mi sembra che il gruppo anche quest'anno sia stato molto fiatato così come lo era quando eri qua nella passata stagione. Sì, noi siamo state molto fortunate, stavo dicendo prima della partita che siamo bel gruppo. Ho visto che Carlo alla fine ti ha abbracciato? Sì, noi ci conosciamo ormai da sei anni, adesso stacco e poi ci siamo nella nazionale insieme, quindi noi siamo sempre insieme. Coppia di fatto! Sì, poi vediamo l'anno prossimo, magari arrivare da qualche parte ci sarà anche lui, non lo so. Grazie mille! Grazie a voi!